Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale SonoVince, oggi voglio parlarvi di un drone particolare, un drone che è in grado di salvare delle vite, esatto perché è appena stato inventato, un drone salvagente, fantastico ragazzi, vi faccio vedere tutto subito e andiamone a parlare intanto facendovi vedere qualche clip video e le specifiche di questo drone. Il drone salvagente volante, chiamato TY3R, è sviluppato dalla società cinese Didiok Makings, introduce proprio una soluzione estremamente efficace per le operazioni di salvataggio in acqua. Questo dispositivo innovativo combina la funzionalità di un quadricottero e di un salvagente proprio progettato per fornire rapidamente assistenza ai nuotatori che ovviamente sono in difficoltà nelle acque del mare o in piscina, insomma in qualsiasi posto in cui ci sia dell'acqua. Che funzionalità per salvataggi efficaci, il TY3R è progettato per affrontare situazioni critiche negli ambienti acquatici dove ovviamente il tempo è essenziale, non c'è un secondo da perdere. Utilizzando le sue capacità da quadricottero, il drone può essere dispiegato rapidamente da un soccorritore a terra tramite un telecomando joystick. Ciò consente al drone di raggiungere un nuotatore in difficoltà ovviamente in pochissimo tempo e la distanza diciamo che questo drone può avere tra il suo radiocomando e il pilota e tra il radiocomando e il drone è di circa un chilometro. Una volta raggiunto il nuotatore il drone atterrerà ovviamente sull'acqua e funge da dispositivo quindi galleggiante fino all'arrivo di un ulteriore aiuto, proprio un classico salvagente ma con le ali. Il drone è dotato di una fotocamera inclinabile a 720p che fornisce al pilota immagini in tempo reale. Questa funzione garantisce quindi di raggiungere la persona in maniera precisa in modo che il pilota possa vedere proprio il drone dove sta andando. La capacità di decollare e atterrare sull'acqua sono appunto i punti fondamentali di questo drone e quindi è stato progettato in questo modo per poter andare sull'acqua e ritornare in volo senza nessun tipo di problema. Il TY3R ha un telaio robusto che misura 935x935x121 mm. Questo garantisce una stabilità e anche un'ampia superficie che consente al drone di galleggiare. Pesa meno di 5 kg e questo lo rende anche un drone leggero. Il dispositivo funziona con la batteria Leon da 22,2 Watt che consente un'autonomia di circa 10 minuti di volo e può raggiungere una velocità fino a 47 km orari. Le sue capacità di comunicazione invece, come vi dicevo prima, remota tra il pilota ed anche proprio il drone mentre il volo si attestano circa un chilometro, un chilometro e cento con un'altitudine operativa massima di 4200 metri. Direi abbastanza anche esagerato questo discorso dell'altitudine. Per quanto riguarda la sicurezza i motori del drone si spengono automaticamente all'atterraggio e con i suoi paraliche consentirà quindi una protezione da potenziali lesioni al soccorso. Ovviamente il TY3R è completamente impermeabile IP68 e quindi questo può resistere in immersioni anche fino a una profondità di 1,5 metri per un'ora. Può resistere a venti fino a forza 6 e può operare in siti del mare fino a forza 2 e questo lo rende impiegabile nella maggior parte delle condizioni meteorologiche incontrate durante ovviamente le operazioni di salvataggio. Anche l'intervallo di temperatura è in linea con altri droni, infatti questo drone può operare da meno 10 a 55 gradi centigradi. Insomma questo drone non è solo una risorsa per le guardie costiere e le organizzazioni di soccorso ma anche per entità private e individui che ne richiedono un meccanismo appunto di sicurezza affidabile nelle attività legate chiaramente all'acqua. La sua interfaccia è anche molto semplice da utilizzare, ha delle funzioni di decollo e di ritorno a casa, diciamo così, al pilota che vanno addirittura con un solo tocco e quindi questo garantisce che tutti, veramente tutti, possono usare questo drone anche senza una grossa preparazione, anche se poi sappiamo che ci vorrebbero attestati, insomma lo scenario è ovviamente molto più ampio di questo che stiamo descrivendo. I prezzi e la disponibilità ovviamente sono un po' il punto dolente di questo drone, infatti il TY3R è disponibile per l'acquisto direttamente tramite il sito web Didioc Makings con un prezzo di 11.803 dollari. Il prezzo è molto alto, è vero, è assolutamente alto, però se paragonato all'utilizzo e all'utilità di soccorso che questo drone ha, insomma potrebbe anche in un qualche modo essere giustificato. Questo comunque è un primo drone che esce in questa maniera e quindi sono curioso anche di vedere che cosa succederà eventualmente più avanti con altri droni e altri impieghi. Insomma questo è un po' quello che ho trovato in rete, mi sembra che in realtà la notizia sia vera, quindi ve l'ho voluta portare qui sul mio canale. Nel caso sia una classica bufala, ma non penso, insomma scrivetemelo tranquillamente qui sotto nei commenti, eventualmente fosse anche una bufala, beh è un'idea che qualcuno potrebbe assolutamente prendere in considerazione e farla reale. Vi dico, per me è tutto vero, quindi questo drone è commercializzato, si potrebbe anche già acquistare al prezzo che vi ho detto di 11.000 euro, però insomma sono curioso di sapere anche tutti voi cosa ne pensate, quindi andate per favore qui sotto nei commenti e lasciatemi un commento. Anche un like è gradito e una condivisione nel caso questo video vi sia piaciuto, anche perché è l'unico modo che avete per supportare il lavoro che faccio qui sul mio canale. Io direi che per questo video è tutto, io vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!